2, 1... Aspetta, aspetta che vogliamo organizzarsi anche del... ...perché adesso mi cavolo! Guarda come spingo! Pronti? 3, 2, 1... Vira! Voi! Guarda come arrivo! Voi! Hai visto che sono? Hai visto? Sì! Vengono fino a qua! Allora, ragazzi, tutti i cuori... ...i cuori bisogna andare sulle panchine del corridoio là giù fuori, in fondo... ...dì, in là, in là... ...e non avete le lasce che andiamo anche di là... ...dì, in là, in là... ...dì, in là, in là, in là, in là, in là, in là, in là... ...dì, in là, in là, in là... ...dì, 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 in là...